Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene, mi auguro ovviamente che stiate tutti ben sereni. Giuntoli ha già Tiago Motta in mano. Nel momento in cui io sto parlando la stampa riporta di un incontro, ancora un altro incontro, dopo quelli in cui avevamo già parlato appunto negli altri giorni, negli scorsi giorni, un altro incontro fra Giuntoli e Tiago Motta. Con Giuntoli che avrebbe appunto convocato l'allenatore ovviamente per parlare del futuro del progetto della Juventus. Ma cerchiamo di capire cosa hanno detto i nostri cari amici che hanno spiato queste conversazioni, a quanto pare visto che sui giornali ormai si legge veramente di tutto. Io vi racconto un pochino di quello che ho trovato in modo tale che possiamo tranquillamente andare a discutere di tutto questo. Fra poco ragazzi, fra poco ci mettiamo qui un pochino a discutere di questa cosa, ci mettiamo un pochino qui a parlare di questa cosa, piano piano, piano piano ragazzi, piano piano, perché dobbiamo parlare prima di una cosa. Prima di iniziare tre cose molto semplici, iscrizioni, solito like, solita campanellina, sempre delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando ragazzi è veramente molto importante perché se voi non attivate la solita campanellina delle notifiche non vi arrivano praticamente mai i video. Quindi mi raccomando, sta cosa è importantissima. Se voi ovviamente volete, poi potete anche venire a seguirmi all'interno dei social, in modo tale che se volete un approccio un pochino più, sai, volete parlare, chiedere qualcosa, potete farlo lì. Allora, Motta è il candidato principale ad allenare la nostra squadra a partire dalla prossima stagione. Voi sapete che con l'allenatore attuale ormai è un matrimonio proprio peggio dei matrimoni italiani ultimamente che stanno tutti in crisi e quindi di conseguenza a fine stagione si cambierà allenatore. Con Motta che dovrà arrivare qui e avrà tanto, tanto, tanto da fare. Perché Giuntoli gli ha già detto che l'obiettivo della Juve è vincere ovviamente le varie competizioni all'interno della quale la squadra parteciperà. Quindi Giuntoli ha parlato a Motta, per quanto scrivo nei giornali, di una Juve che deve essere vincente, di una Juventus che deve essere prepotente, di una Juve che deve essere, diciamo, forte, ossuta, strana, ma anche abbastanza, diciamo, vincente per la storia. Quindi bisogna coniugare sia le vittorie con lo sviluppo. Perché ricordate sempre che la Juventus attualmente vive un progetto tecnico molto particolare che punta sui giovincelli, quindi sui giovanotti che devono venire qui e devono cercare di emergere come elementi principali appunto della squadra. Però, ovviamente, questo è molto complicato. Motta accetterà l'incarico, quindi non ci sono problemi. Ho sentito dire da qualche parte che Motta potrebbe andare, potrebbe rifiutare. Bene, io, a me non risulta, dalle mie fonti non risulta, però nel caso in cui Motta dovesse veramente rifiutare la panchina della Juventus, peggio per lui. La panchina della Juventus è qualcosa che ti capita una volta nella vita, amico mio. Se tu sei così stupido da non accettare, la colpa è solamente tua. A noi non interessa, perché passato Motta troveremo sicuramente un altro allenatore. C'è la gente che vorrebbe letteralmente pagare per venire ad allenare la Juventus, per quello che rappresenta e per quello che siamo noi. Quindi, non vi preoccupate qualora dovessero esserci nuovi nomi, però a me sembra, per quanto ne so, che Tiago Motta, comunque, sia molto, molto, molto interessato a questo lavoro. Credo che ci sia tanto, 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 tanto da fare, perché questa squadra, quest'anno io ho passato un anno intero a dire che questa squadra non era da scudetto. Ho parlato di questa cosa per mesi, ho sempre detto quello che pensavo, non ho fatto la pecora, perché non mi piace fare la pecora, e ho sempre parlato liberamente di quelle che erano le mie idee. Io credo che la Juventus debba cacciare l'allenatore attuale semplicemente perché l'Allegri non ha portato risultati. Cioè, debba comunque portare, con questi risultati, specialmente gli ultimi che ha avuto negli ultimi tempi, quell'insieme di risultati molto particolari, debbano portare ad un esonero, ad una separazione, semplicemente perché è evidente che da questo punto di vista la società in questione sia, ovviamente, una società che, con tutto il rispetto possibile e immaginabile, vuole puntare alla vittoria. Giusto? Allegri è in linea, ok? Per quanto mi riguarda con gli obiettivi stagionali. Però ragazzi, però ragazzi, ripeto, non è in linea con quelle che sono le richieste che gli vengono fatte per quanto riguarda il progetto, per quanto riguarda ovviamente i risultati. Io non pretendo certamente, non pretendevo certamente che vincesse il campionato, ma che ci si avvicinasse quantomeno il più possibile. Invece siamo arrivati ad aprile, che siamo a distanza siderale dall'aprimento classifica. È una situazione, secondo me, veramente imbarazzante ed è giusto che vada via. Ma il prossimo allenatore dovrà ricevere le richieste attuali. Cioè, quando arriverà Motta sulla panchina della Juventus, Tiago Motta dovrà per forza, per forza di cose, essere pressato. Perché ragazzi, non è che noi adesso stiamo cambiando allenatore per chissà quale motivo, lo sapete bene, quindi Giuntoli l'ha già comunicato a Motta, che è l'obiettivo principale della Juve nell'anno prossimo, è quello. Poi, giustamente, ragazzi, bisogna essere sinceri, va bene? Bisogna essere sinceri. La Juve dipende dal mercato che farà. Se la Juventus farà un mercato che potrà, da questo punto di vista, offrire alla gente, cioè se farà un mercato che potrà, ripeto e ribadisco, offrire alla squadra una serie di giocatori nuovi, più importanti, allora è un conto. Se pretende di far mercato, come l'ha fatto negli ultimi, nell'ultimo anno e mezzo, e pretende pure di vincere lo Scudetto, allora ti dico, lascia perdere. Perché comunque è una cosa, secondo me, molto, molto delicato. È una cosa che sinceramente mi dà fastidio. Quindi è una cosa che, che, che bisogna considerare, perché il mercato, i giocatori hanno sempre un'importanza. Sembra, se arrivate ad un periodo storico in cui sembra che l'allenatore sia la cosa più importante della squadra, secondo me non lo è. Secondo me la cosa più importante della squadra non è l'allenatore. L'allenatore incide per un 30%, 30-40%. Il resto lo fanno i giocatori e le grandi dirigenze. Mi dispiace dirlo, ma è così, ragazzi. È così. Quindi, appunto, dai una squadra scarsa ad un grande allenatore e resterà una squadra scarsa con un grande allenatore. Dai una squadra forte ad un allenatore debole e vincerà, vincerà. Ci sono tanti casi nella storia, capite, ragazzi? Gli allenatori contano relativamente poco rispetto a quanto voi crediate. Questa è la mia, la mia affermazione, la mia tesi, il mio pensiero. Poi ognuno la pensa a modo suo, ci mancherebbe altro, però io credo che, allora, credo che questa sia la verità. Poi, è normale che, insomma, dipenderà dal mercato. Ripeto, dipenderà molto dal mercato. Però, ragazzi, bisognerà essere pazienti, secondo me, con Tiago Motta. Poi, non so, ho questa sensazione. Secondo me dovrà avere un po' di tempo prima. Almeno un paio di mesi per riequilibrare un po' le cose. E poi, insomma, bisognerà avere pazienza. Bisognerà cercare di avere assoluta pazienza. Poi, da lì, giustamente, si potrà cominciare a chiedergli un pochino di cose, un pochino di cose in più. Quello è importantissimo. Sicuramente si diverranno chieste delle cose. Però, 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 insomma, dobbiamo cercare anche di essere onesti con la Juve. Dobbiamo cercare di essere onesti con il mercato. Non possiamo certamente pretendere che l'allenatore faccia miracoli se non gli arrivino giocatori, appunto, se non gli vengono presi giocatori giusti, ideali, per cercare, appunto, di andare avanti. Mia opinione personale. Poi, ragazzi, ognuno è libero di pensarla, ripeto, come vuole, visto che ultimamente la tifoseria della Juventus è una tifoseria molto agitata, molto nervosa. Noi siamo tutti belli carichi, perché comunque vogliamo assolutamente tornare a vincere. Vogliamo assolutamente giocare in maniera diversa, a quanto ne so. Quindi vedo che la gente vuole un'idea calcistica, vuole una nuova idea calcistica. E ritiene di poterla avere già adesso, con questa rosa straordinaria. Quindi, sicuramente, vedremo quali saranno le situazioni che si evolveranno all'interno della Juventus, perché voglio conoscere, appunto, voglio vedere un pochino Motta come se la caverà. Devo dire, sono curioso, sono molto, molto, molto curioso. Fatemi sapere voi che cavolo ne pensate.